E' importante questa ragazzi, è molto importante questa ragazzi. Non ricordo una partita in cui ho sofferto così tanto perché ero talmente tanto volenteroso di vedere i tre punti che l'ansia mi stava veramente mangiando dentro. E voi direte, madonna, per una partita contro l'Empoli, sì, è così. Sì, perché quando da troppo tempo non riuscivi a vincere, da quando troppo tempo ti dovevi accontentare dei pareggi e l'avvento se pareggi non sono mai una cosa bella, e quando anche le altre comunque in questo momento, le grandi squadre sono in difficoltà, fanno fatica a vincere anche loro, per le grandi squadre intendo quelle che occupano le posizioni più nobili in classifica, e con te che non puoi veramente più sbagliare, la liberazione del fischio finale che va ad assicurare i tre punti della Juventus è stata fantastica, fenomenale. Prima di tutto, un mi piace a questo video per essere tornato alla vittoria, per supportare la vittoria della Juventus e scaricate OneFootball, il link per farlo è qui sotto in descrizione perché sono veramente curioso di leggere anche i commenti post partita di quello che dirà Allegri e se riuscirà a andare anche sul discorso, secondo me, della grande cosa brutta, non tanto sotto il punto di vista della partita, ma purtroppo non sono entrati i ragazzi neanche oggi, i ragazzi dell'Under 23 che erano aggregati alla prima squadra, secondo me almeno uno poteva entrare, tra l'altro a che, alla zona avevano detto se sta scaldando, sta entrando, forse perché Bonucci o Delete non erano prontissimi e quindi se voleva provare a fare questa roba qua, mi sarebbe piaciuto vederli perché nel momento in cui te li porti dietro, in un momento di necessità, in un momento in cui secondo me anche tanti giocatori della Juventus iniziano ad essere molto molto stanchi dal punto di vista mentale, ma soprattutto dal punto di vista fisico, far recuperare qualche minuto non sarebbe stato per niente male, e quindi mi sarebbe piaciuto vedere uno tra che, Ossoulet, magari anche al posto di Quadrado, che non mi sembra proprio a posto a livello fisico per usare un eufemismo, sia la prima squadra che vince oggi, ok, nella giornata di oggi, dopo i tre pareggi tra Bologna e Salernitana, tra Milan e Udinese, tra Inter e Genoa, e come vi dicevo prima, qualcuno dirà sì però è l'Empoli, sì è vero però è l'Empoli, però l'andata ci avevi perso, l'Empoli ha battuto anche il Napoli, quando si vanno a affrontare queste squadre qua, è sempre un po' un casino, proprio per quello che dicevamo prima, anche il Milan che non vince con l'Udinese, il Milan che non vince con la Salernitana, l'Inter che perde col Sassuolo, l'Inter che non vince col Genoa, il Napoli che ha perso con lo Spezia, che ha perso con l'Empoli, alla fine sono partite da tre punti, e sono partite da tre punti pesanti, la stessa Atalanta che non vince col Cagliari, così, sono partite da tre punti pesanti, e questi sono tre punti pesantissimi, poi secondo me oggi la Juve non ha fatto nemmeno una partita tremenda, mi spiego, nel senso che delle occasioni da gol le ha create, secondo me ci sono state almeno quattro, se contiamo anche il calcio angolo di quadrado che non mi piace contare, addirittura arriviamo a cinque, facciamo quattro buone occasioni da gol nel primo tempo, il tiro di Zaccaria, il tiro di Vlaovic, i due gol che effettivamente facciamo, tra l'altro il primo gol che facciamo, quello di Kenne, un bel cross di Rabiot, un bel gol di Kenne, ma soprattutto una protezione del pallone da parte di Vlaovic che fa un gioco spalla la porta fenomenale, che è quello che mi ha fatto sempre dire da quando ho iniziato a vedere a giocare Vlaovic, quando ho iniziato a vedere a giocare questa Juve, quello è il calciatore che ci serve, perché a noi manca esattamente un uomo che fa quel movimento lì, e oggi secondo me l'ha fatto veramente molto bene in occasione del gol, e non solo, perché l'ha fatto tante volte quel movimento lì, e ti fa capire che quello è il giocatore giusto per fare questo tipo di gioco, di questo tipo di movimento, a staccarci, a venire incontro, ad aprire, ad allargare, e per fortuna poi Kenne è andato anche a riempire l'area di rigore. L'altra nota negativa ragazzi è l'infortunio di Zaccaria, l'ennesimo infortunio nell'ennesimo centrocampista, adesso non abbiamo tre, cioè c'è poco da fare. Poi nel secondo tempo il gol che troviamo con Morata, e poi secondo me abbiamo avuto anche delle occasioni per fare altri gol, c'è stato un tiro di quadrado da fuori, altre occasioni che potevi anche buttare dentro con un po' più di concentrazione, c'è stato anche un inserimento di Locatelli che è andato a riempire l'area di rigore, quindi secondo me oggi la Juve, dal punto di vista delle occasioni che ha creato, non siamo nemmeno andati malissimo. Poi forse le grandi occasioni da gol le ha avute nel primo tempo, nel secondo ancora un po' più cauti. Se devo trovare un difetto, anzi due difetti, a questa Juventus, principale in assoluto, quanti passaggi abbiamo sbagliato. Tra Quadrado, Danilo, un'infinità, Rabiot, un'altra infinità. Ha fatto molto bene Arthur invece, secondo me stasera, ha fatto una bella partita Arthur e quando è entrato Locatelli, poi sempre il discorso Arthur Locatelli è qualcosa in più a centrocampo, quella gestione migliore dentro il cuore del campo. Si è vista anche stasera, secondo me, anche tanti 1-2 in velocità, di prima, anche se vogliamo, tra Locatelli e Arthur, sono quelle cose che mi sono piaciute. Dobbiamo migliorare nel farne ancora di più, perché vedete davvero che questa squadra, oltre va bene ai passaggi sbagliati, la seconda cosa è che abbiamo dei blackout, è quello che dicevo anche ieri quando abbiamo parlato della gestione del risultato. Noi il risultato non lo riusciamo a gestire, c'è inutile che ci giriamo intorno. Ieri vi ho parlato di gestione dell'imprevisto, di godere del difendere e gestione del risultato. Non ce la facciamo, è quello che vi sto dicendo. Siamo migliorati, certo, dall'andata anche solo, dalla partita dell'andata con l'Empoli, certo che siamo migliorati. Abbiamo fatto addirittura tre gol, abbiamo avuto tante più occasioni. Poi stasera tante delle occasioni nascono dal fatto che esista Dusan Vlaovic, punto. Che questo va detto con grande chiarezza, perché Vlaovic ti ha trascinato stasera, poi fatto delle robe anche in occasione dei gol. Il secondo gol è bellissimo, ne parleremo domani nei pagelli, il secondo gol è bellissimo. Però sei leggermente migliorato, ma devi migliorare ancora di più. Il primo gol che prendiamo, cioè paradossalmente stasera, la grande nota negativa della Juve è stata la fase difensiva, perché il primo gol che prendi non lo puoi prendere. Non lo puoi prendere, un gol che, cioè io non li ho mai visti prendere negli amatori dei gol del genere. Negli amatori, lo devo vedere in Serie A, che la Juventus si prende un gol del genere. Veramente regalatissimo, abbiamo fatto una dormita colossale e dovevamo essere in vantaggio 1-0, probabilmente, a fine primo tempo. Poi, per fortuna Vlaovic trova anche il gol del 2-1. Ecco, precisione passaggio 81%, 350 passaggi 81% di precisione passaggi. Pensavo anche peggio, vi dirò, per quella che è stata la mia concezione. E anche il secondo gol, dopo lì, fa un fallo Arthur su una ripartenza, forse è arrivato anche un po' stanco perché si è arrivato tutto il campo. E se deve piovere, diluvia, eh? Casa Juventus. Se deve piovere, diluvia. Perché c'eravamo salvati con la traversa, autotraversa di Bonucci, ma che la palla deve rimanere lì perché siamo stati un po' pigri a uscire, perché stasera siamo stati molto pigri anche nello sviluppo dell'azione. La palla che si muoveva molto, molto, molto lenta, molto, molto, molto lenta. E prendiamo il gol. Nonostante la traversa, prendiamo il gol. Quindi la grande peculiarità, no, delle ultime Juventus, cioè questa squadra molto solida che faticava a prendere gol, stasera abbiamo fatto delle dormite colossali, abbiamo regalato dei gol. Noi siamo stati proprio dei pollissimi e abbiamo deciso di rimettere tutto in discussione. E dispiace perché è per una volta che la Juventus riesce a fare tre gol in campionato. Si poteva vincere 3-0, si poteva vincere 3-1, iniziare a saporare un gusto nuovo perché in questo campionato 3-0 ancora non lo avevamo fatto. Forse nemmeno 3-1, mi viene da dire. Perché dei 3-2, mi ricordo, con la Sampdoria e con lo Spezia, non mi vengono in mente le 3-1, poi magari li abbiamo fatti. E dare anche la possibilità appunto a questi ragazzi di entrare. Avevamo uno slot disponibile, potevamo utilizzarlo al meglio. con magari la gara, poi al di là di quello, un giocatore, almeno un giocatore, poteva entrare comunque veramente perché non è che se entra un giocatore poi tu hai perso perché questo è dei giovanili, non esiste, non funziona così. Però si poteva anche provare a fargli fare molti minuti piuttosto che i 5 minuti che mi aspettavo e che poi non ci sono stati comunque. Stasera mi porto a casa, secondo me, delle belle cose dal punto di vista della crescita della squadra rispetto alle ultime uscite. Certo non siamo ancora ai livelli che mi aspettavo e non siamo nemmeno ai livelli che avevamo, secondo me, toccato barra raggiunto, forse più toccato che raggiunto, con l'Ellas Verona o col secondo tempo col Sassuolo o con la partita con l'Atalanta. E questa era una partita, secondo me, che tranquillamente la potevi vincere 3-0. Poi abbiamo deciso che era giusto far prendere due gol a Scesni, abbiamo deciso che, tra l'altro Scesni prende gol sul suo palo, sul gol del 3-2 e abbiamo deciso che dobbiamo complicarci la vita, sudare e soffrire fino all'ultimo. Però secondo me stasera la Juve ha fatto la sua partita e porta a casa tre punti preziosi e lo ribadisco, è vero, sì, è solo l'Empoli ma lo vedete che si sta facendo fatica con tutti e noi l'andata da Lempoli ci abbiamo perso quindi era veramente essenziale la vittoria questa sera. Mi porto assolutamente a casa i tre punti non una prestazione del tutto convincente ma una prestazione con dei punti di crescita rispetto alle ultime dove veramente non mi era piaciuta la Juve. Quindi un mattoncino un mattoncino che però si deve evolvere un mattoncino che sa di vittoria finalmente obiettivo quarto posto non voglio trovarmi commenti strani nei commenti obiettivo quarto posto e adesso vediamo cosa fa l'Atalanta. Buonasera ragazzi fatemi sapere che cosa farete voi in questo sabato sera ovviamente dopo aver visto il mio video e dopo aver messo il mi piace. Ci vediamo domani con le solite pagelle di rito. Un abbraccio e buona serata a tutti. Ciao Ciao